Vivono ancora con una fontanella posizionata all'interno della struttura e con tre bagni chimici. Sono gli invisibili gli stessi che lo scorso anno erano stati trasferiti dall'amministrazione comunale di Radispoli dal parcheggio nei pressi della stazione ferroviaria e dai locali sotto il ponte 9 novembre all'interno dell'ex scuola del Boietto. L'assessore ai servizi sociali Gabriele Fagnoli ha assicurato la massima attenzione verso queste persone svantaggiate. Diciamo che noi già da tempo abbiamo iniziato, io arrivo a luglio ma chi mi ha preceduto ha ben lavorato ma soprattutto il sindaco si è subito adoperato da quando ci sono stati sfratti dal parcheggio della provincia e da chi dormiva sotto il ponte, il nostro sindaco si è subito adoperato immediatamente per poter dare una risposta. Purtroppo non è partito il progetto SOS Casa che prevedeva che queste persone potessero alloggiare in una casa. Non è potuto partire perché poi qualche proprietario di immobile non ha risposto come doveva e abbiamo dovuto ripiegare sul boietto. Sul boietto abbiamo portato la luce, l'acqua e ci sono delle roulotte in buone condizioni, ecco possiamo parlare di questo. Tuttavia è monitorato continuamente dal comune, dalle nostre assistenti sociali, da Ilaria e Lorena. Con l'arrivo dell'inverno e del freddo c'è molta preoccupazione. In visione futura stiamo giocando d'anticipo e ci stiamo sicuramente organizzando, peraltro come abbiamo sempre fatto, per quei giorni più freddi senza dubbio cercheremo di dare una risposta efficiente.